una sola la pancia no la pancia no questo è di di Sandra di Sandra è anche di sottile e allora dai vai di dietro via la pancia no la pancia no la pancia no e buon appetito grazie 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 vai pizza bellissimo non l'ha di pastone tanto piacche sono questo è bello veramente e questa è la rinomata bistecca di galleno andiamo ad assaggiarla beee buona la grande buona buon appetito buona 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 Ma tu chi sei, ci credi che non lo so dire?